Giovedì mattina alle ore 13 presso la casa Santa Marta, Papa Francesco ha ricevuto la signora Meriam, la donna sudanese cristiana che era stata incarcerata nei mesi scorsi ed era accompagnata dal marito e dai bambini piccoli. Martin è di un anno e mezzo e mai è nata in carcere due mesi fa. La famiglia era accompagnata dal viceministro degli esteri italiano. L'incontro è durato poco meno di mezz'ora e si è svolto in un clima sereno e affettuoso. Il Papa ha ringraziato Meriam e la sua famiglia per la coraggiosa testimonianza di costanza nella fede. Meriam ha ringraziato per il grande sostegno e conforto ricevuto dalla preghiera del Papa e di tante altre persone e credenti di buona volontà. Con questo gesto il Papa ha voluto manifestare la sua vicinanza, attenzione e preghiera anche per tutti coloro che soffrono per la fede e in particolare per i cristiani che subiscono persecuzioni o limitazioni imposte alla libertà religiosa.